Sfruttare le potenzialità dell'agricoltura per produrre energia, tradurre la ricerca in realtà utilizzando le risorse del PNRR. Su questo tema attuale della transizione ecologica, della sostenibilità e della semplificazione normativa, l'Università degli Studi di Teramo, in collaborazione con la Regione Abruzzo, il Comune di Tortoreto e Agena, ha presentato un progetto di ricerca triennale. Promotore dell'iniziativa Enzo Di Salvatore, professore di diritto costituzionale all'Ateneo Terramano. Noi vorremmo inserirci in un dibattito più ampio, che vede al momento la ricerca, soprattutto quella applicata, essere la grande favorita di questo PNRR, perché al dramma che stiamo vivendo la politica e le istituzioni tentano di reagire. Reagendo ovviamente in che modo? Potenziando la ricerca applicata, ma noi siamo la dimostrazione plastica, vorremmo che così fosse che alla ricerca applicata si desse poi seguito in qualche modo in azione politica e con l'apporto del diritto, perché occorre poi disciplinare tutto questo. Quindi la ricerca durerà tre anni. Si occuperà di agroenergie, di filiera agroalimentare, questo è anche un piccolo contributo al problema dei cambiamenti climatici, perché voi, come potete immaginare, la filiera lunga comporta tutta una serie di problemi da questo punto di vista. Però è soltanto un progetto che così si svolgerà per tre anni e speriamo che possa essere potenziato. Tra gli obiettivi che la ricerca triennale dell'Università degli Studi di Terramo si pone, ci sono l'incremento delle prestazioni ambientali e la competitività delle aziende agricole. Quali benefici per esempio per chi gestisce un'azienda agricola? Benefici sicuramente in termini di incentivi fiscali nei riguardi delle aziende agricole, per cercare anche di permettere alle piccole aziende di creare dei piccoli siti di stoccaggio e di conversione dei residui culturali da riconvertire in energia pulita. E quindi parliamo ovviamente di biomasse, parliamo anche di biometano. La creazione di biometano da residui culturali è ovviamente una delle prospettive più immediate di questo progetto. Dall'agricoltura sostenibile passiamo ora alla corsa al colle. Enzo Di Salvatore. Sì, perché il professor Enzo Di Salvatore dell'Università di Terramo ha ricevuto ben due voti. Nell'ultima votazione per eleggere il Presidente della Repubblica, lui ci scherza sopra al colle e lui preferisce Colle Parco. Professore, ma quando ha sentito il suo nome alla Camera dei Deputati, che ha pensato? Nulla, che avrei dovuto continuare a fare ciò che faccio, perché la corsa al colle si sarebbe poi sgonfiata e sarebbe divenuta la solita corsa a Colle Parco. Diciamo che la realtà mi porta a questo. Grazie a tutti.